Ciao ragazzi, ben ritrovati in una nuova puntata di Allezione Con, io sono Bernardo Grillo e questa è RockerTV. Oggi parliamo di velocità con il doppio pedale e quindi per parlare di velocità ovviamente parliamo di coordinazione. Pensavate che per andare veloci con il doppio pedale servisse soltanto i tendini tirati a 2000? No, non è soltanto quello, anche se è una parte, ammettiamolo. Senza coordinazione non otterremo mai velocità. Quindi oggi un esercizio per costruire queste fondamenta, costruire questa coordinazione. E farlo anche per utilizzare il doppio pedale sul nostro drum set, quindi sulla batteria, sia come lanci che come orchestrazioni varie che possiamo fare per arrangiare i nostri brani. Secondo me la parte fondamentale per costruire la coordinazione è suonare degli unisoni tra mani e piedi. E lo faremo adesso, lo farò con un esempio, cambiando vari tipi di sticking con le mani e andando a suonare sempre un tappeto di doppio pedale in sedicesimi con i piedi. Quindi l'esempio di oggi, e poi vi faccio vedere nello specifico di che cosa si tratta, suona più o meno in questo modo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché questo è fondamentale? Perché qua si vanno a costruire appunto gli unisoni tra mani e piedi, quindi bisogna stare molto attenti che non ci siano flam fra casso e rullante. E poi andremo ad aumentare la difficoltà utilizzando vari sticking. Adesso farò un esempio solo su tomm e rullante, passando tra colpi singoli, quindi destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, colpi doppi, destra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra, e paradiddle, single paradiddle numero uno. Quindi destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, sinistra. Se riusciremo a fare questo e lo portiamo a velocità interessanti, che secondo me sono circa 130-140 bpm, riusciremo ad avere una buona base di partenza per costruire anche altre skills di doppio e piedale. Quindi colpi singoli, doppi e paradiddle. State a sentire. Faccio una battuta ciascuno. Ultimo suggerimento di oggi. Mentre fate questo, che è un esercizio a sé, cioè che è già un esercizio, potete anche utilizzare questi stessi sticking per costruire groove sulla batteria. Quindi ripetiamo lo stesso esempio e cercherò di costruire un groove utilizzando questi sticking, che sarà anche uno stimolo per la nostra fantasia, per le nostre composizioni sulla batteria. Dunque suonerà più o meno in questo modo. Quindi, avete capito? Si passa sempre da sticking a sticking. Non ci fermiamo mai. E quindi faremo stamina, faremo resistenza con il doppio pedale. Nello stesso tempo costruiremo la coordinazione necessaria. E questi sono i due fondamenti, le due colonne portanti, per poi portare in velocità i nostri piedi, di conseguenza quindi allineati al lavoro che facciamo con gli arti superiori. Dunque, spero che questo vi sia utile per costruire le vostre chop di doppio pedale. Anche per questa volta è tutto. Ci vediamo nella prossima pilota didattica di A lezione con. Io sono Bernardo Grillo e questa è RockerTV. Ciao!